Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video ti spiego come abilitare o disabilitare le notifiche sul sistema operativo Windows 10 oppure Windows 11 sto facendo la guida su Windows 11 però questo metodo funziona anche su Windows 10 quindi se in questo caso si avvia un'applicazione ti esce una notifica qua sotto oppure tu cambi impostazioni audio esce la notifica, vai in background esce la notifica, ti danno fastidio queste cose tu vai su notifiche e azioni e da qui in poi potrai attivare o disattivare tutte le notifiche se tu vai a mettere disattivato disattivi veramente tutte le notifiche che ti escono su Windows se invece vai ad attivarlo qua sotto puoi personalizzare qualsiasi applicazione io per esempio ho disabilitato così il driver del mio mouse perché ogni volta che adesso ti faccio vedere come puoi vedere vado a cambiare i dpi del mio mouse e mi esce la notifica mi dà anche fastidio quando vado a giocare e mi esce anche sul gioco non capisco perché mi esce anche sul gioco anche se è a schermo intero ogni tanto cambiavo dpi e mi usciva dal gioco tipo andava in background il gioco per colpa dei dpi quindi lo tolgo adesso vado a mettere vado a cambiare i dpi sul mio mouse mi sono pure dimenticato il nome del mio mouse quindi da qui in poi potete attivare e disattivare tutte le vostre notifiche quindi in questo piccolo tutorial se vi è stato utilissimo iscrivetevi lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao